e torniamo su brave land amici miei e amiche mie dai 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 diottiamoci a me sto gioco veramente mi piace un bordo raga ok allora eravamo arrivati al castello di castello a via perlenande forestieri andate a farvi sederti distrutti il vostro è rubato il libro dobbiamo riprendercelo a forti guerrieri allora cominciamo già a indebolire un po il forte guerriero questo poi teletrasporto e lo becchiamo sempre questo qua tatac no eh fortino eh vai vai alberello ahi cominciamo ci sono un arciere gli altri rimangono dietro quindi ci sta bam ti ho preso ok ok allora vediamo se riusciamo a beccare dai caspita avevo anche il oh porca bravo bravo quasi vai quello forte è andato ragazzi 135 non è male neanche lui 2 bang inizia magia Quattro una 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 600 aperto 32 ci sta ci sta si è aperto tutto qui è l'arena qui giungono combattimenti di tutto non metterci la prova urca dai allora becchiamo e straniamo ne uno sotto mira l'orca e facciamone uno ok bravissimo la 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 ancora che sei Perfetto! Porca doca! Dai, muori! Perfetto! Bravo! Pam! Dai pulpa! Mano! É! Vai! 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 Ok Perfetto raga All'arena si potrà andare più volte Credo Maledetto Allora vediamo un attimo Ok 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 C'è la stessa battaglia di prima Ok Ah bravo Ecco tutti i due verso il mio mago eh E uno è andato E uno è andato E uno è andato E uno è andato Ah Vai Su Boom Che bella Legnata in testa Forca Forca Bravissimo Brava E' Sì 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 che meraviglia e questi chi sono ragazzi organizzeremo le forze 10 ok 10,7 5,5 lo voglio vedere tutti ragazzi andiamo a metterlo subito allora poi lì c'è ancora qualcosa ma qui devo prima comprare tutte le truppe orca 7,7 per fortuna qui che cos'era? nulla e questo qua vediamo un attimo dovrebbe essere l'inizio e quindi non è nulla infatti poi me lo ripropone sempre dopo avevo bisogno di 400 per fare questo qui ma non ce li ho 400 in momento potrebbe fare un'altra arena così la compro vabbè 110,41 c'è stato bella bella fanno male bella dai zero bella come ai a a a a a a a a a lo si dava un pugno tutti con lui ce l'hanno vai legnata un pugno ah che stupido due ne ho fatte ci sta ok ne ho presi 8 600 no vabbè quello che è si 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 ancora ce n'è oh potevo prendere un altro intanto non c'è credo più nulla da prendere ah ogni volta uno però sono tosti avevo già detto che non dovrebbero farci ingannare a loro aspetto dobbiamo fermarli con la nostra magia magica strada re taric ci ha mandato qualche pagamina aia aia cominciamo a fargli capire che non abbiamo paura di loro il mago non c'è stanno prendendo tutti con lui aia vediamo se possiamo buttarlo giu ok questo è il primo dei grossi no potevo andare da lui aia 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 bravissima bravissima tam aaa incredibile tam bam bam è finita 4 3 6 80 58 perfetto ma qui l'abbiamo proprio comprati e quindi non secondo me quello è non è infinito raga quello è infinito quello è infinito che è grande che è che è è è Bravissimo! BAM BAM FINISH LINE Un'antica strata sembra un saggio antico, ho letto di una rava che la magnificenza della barba, oh saggezza! D'anni, vai! Possessioni di studi misteri a stabilizzarsi mai in orca, è diventato il protettore della nostra biblioteca! Oh! Oh! Porca! Forse! Ah dai, sei serio? Allora 15, 5, 10... Per togliere... C'è invece dell'albero il mago, proviamo! Vai proviamo! Invece dell'albero il mago! Forse è meglio il mago! Aspita sono gli stessi, è incredibile! Finale! C'è ancora la idea della scuola romante... Non è che è lui che cura? Mi sono accorto solo adesso Porca Ok Così cominciamo a Hmm Grazie per la visione! C'è la cera! 9,50! I bazar, eh? Dobbiamo sconfiggere i banditi che stanno rubando le cose al bazar! Abbiamo già una strigliata questo qua! Certo! 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 Cominciamo a farne qualcuno fuori, eh? Ecco, lì si fa così! E uno è andato! Oh! Facciamo giù i soldini, eh? Non ho paura di perdere! Non è male come formazione, però, eh? Tre da lontano e due dietro! Beh, ti sei altamente bruciato con le tue mani, eh? Ho ricevuto tre punti! Ne abbiamo quattro! Ho fatto fuori tutto! Questo che cosa mi dà? Si può comprare... Oh! Incredibile! Vediamo subito montarlo! Bravo! Uh! Si, questo è... Che cos'è quel punto di domanda qua? Ho superato mio fratello! Ora devi superare la seconda prova! I tormenti di... L1! No! Si! Devo andare giù da quelli là, però, prima, eh? eh! Ah... Tata! Aiuto lui! Sopra! No, no, no. Sì, è vero. e un altro è andato bello quando si girano e fanno la stessa manovra e li rimazzano ancora non 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 ah bellissimo il bastone si trova su una delle dune sembra che questa sarà la recompensa del genio wow porca orca 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 Vorka 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 Ok 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 Hmm Hmm Ok 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 Oh Resiste eh Resiste un botto sto stumag Dai 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 Poi Arrivati alla fine di questo ragazzi si aprirà il terzo mondo eh Per poi andare a completare il game No Potevo urlare l'altro mi sa che No ma meglio lui perchè mi ha massacrato ok 5 e 8 Quindi andiamo a comprare un potenziamento che è qua Ok danni Farsi spazio tra le due in un genio in un altro mondo e illusioni Sapere dove è la prova finale eh Eh si Allora Ok Ok Guardalo Ok Guardalo E Guardalo perfetto e insomma 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 chi è quello lì è il stronzone qua in mezzo è ingannevole questa prova ok cacchio ma volevo io ce la stiamo giocando alla pari quasi io Sì, c'è un po' di più. Oh No, orca Sei morto, amico Eh sì Caspita Non era finita Facciamo un giro Se c'è da comparare ancora qualcosa 5 di 5 Uh Eh, vedi che Allora, voglio vedere l'alberello Diciamo che non ce l'ho neanche equipaggiato adesso Caspita Sì sì sì, non ce l'ho neanche sodio Oh Ah Grazie a tutti. Ok, bravo. Grazie a tutti. Oh, bravo. Va... E io direi che... 12, 12, 9, 9, 800, non facciamo tantissimo, ragazzi. L'albero non ci serve a nulla. 9 di 9 siamo a posto. Ci manca per comprare lui, ma lui non ce l'abbiamo neanche bisogno, ragazzi, comunque. Fammi vedere un attimo di qua. Lui ce l'abbiamo. No, 12, 12. Quindi mancherebbe una prova per comprare tutti. Vediamo un attimo. Dai, ne facciamo un'altra prova. Poi chiudiamo e... Non ce n'è in più. Anzi, chiudiamo e poi l'ultimo video per la battaglia finale. A questo punto credo che siamo sulla finale. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo. Iscrivetevi al canale YouTube. Commentate e mettete mi piace. E ragazzi, come si dice... Seguitemi anche su Twitch. BarcodramsGames. Ok, raga? Poi lo trovate un po' dappertutto nei commenti, nelle cose. E mi raccomando, lo metterò anche in questo link. Il link diretto di Twitch. Anche su YouTube. Twitch, Facebook, Instagram, TikTok, WeChat e Discord. Ciao amici, alla prossima. Con questo gioco. Fighissimo. Non è il principio. Braveland. Parte, non so. Comunque lo finirò tutto. E lo porto tutto in video su YouTube. Ciao amici, alla prossima.